Eravamo insieme due domeniche fa, mi ricordo una giornata bellissima, di sole, fantastica, tanta gente, tanto entusiasmo, un risultato al primo turno che ci dà grande speranza per vincere il ballottaggio e soprattutto un risultato che è ancora più importante dopo quello che è successo in Regione. Franz Caruso è il nostro candidato, è il candidato che vogliamo far diventare sindaco di Cosenza, Franz Caruso sindaco di Cosenza, da lì ripartirà la nostra scommessa e la nostra riscossa. È fondamentale per la Calabria, è fondamentale per tutto il Mezzogiorno. Votate Franz Caruso, il massimo impegno che tutti noi stiamo mettendo è perché Franz sia sindaco di Cosenza, un grande sindaco di una grande città della nostra Calabria e del nostro Mezzogiorno.